Ragalino come la chiamiamo? Mi sa di spagnolo il nome del canale Sai che anche a me Tipo, non so Io adesso lo scrivo sullo schermo La mia idea, ok Adesso che è stato registrato ufficialmente Dai, dillo Dillo tu quello che pensi Non so Io all'inizio ho pensato a Irmana Non lo so, che è il nome spagnolo Non dimmi che hai scritto quell'en No Ok, buono Non lo so, tu non hai idea Non lo so Un nome che vuoi? Che volessi Eh, non so Sto pensando a non guardarmi così Comunque il collo è inesistente Oddio, ci sono i Che cazzo stai facendo, oddio Ehm, credo che Carmencita sia approvato Eh, cazzo Carmencita, cazzo E cosa hai scritto? E cosa hai scritto? Esmeralda Io voto per Carmencita Anche io voto per Carmencita Perfetto A Parkour più zero Quindi dati benvenuto a Carmencita Carmencita E in più abbiamo anche un overmano Che tra l'altro vuol direi fratello Quindi abbiamo trovato il fratello del fratello Esatto Me lo chiamo Roman Ermano 2 Ok Il Mano Doss Il Mano Doss Ok Siamo un po' troppo spagnoli qua Eh sì Cioè troppo mai mi si amato con il fratello Ma andiamo? Beh Come ci serve per fare l'albero? Per fare l'albero Ci vuole il seme Fare il seme Ci vuole l'omar Fare l'omar Fare l'omar Ci vuole minecraft Fare minecraft Ci vuole l'omar Fare l'omar Ci vuole la Svezia Fare la Svezia Ci vuole un paese non di merda Per fare un paese non di merda Ci vuole uno dei politici normali Per fare per avere dei politici normali Non devi essere in Italia Quindi in sostanza Se sei in Italia Non c'è la Svezia No più che altro se sei in Italia Non puoi far crescere gli alberi La logica potrebbe a questo Però in realtà non siamo logici Sì Aspetta che ho fatto un po' un casino con le mie cose Mi hai fatto casino con le mie cose Mi hai fatto casino con le mie cose Mi hai fatto casino con le mie cose Non posso fare casino Non posso fare casino Eh lo so Io ho 1,2,3,4,6,7 oggetti Quindi sì Ma lo so anche questo Ma devo dirti così lontananza Ma devo dirti così lontananza Non è lontano, sento il mio No perché ho corso veloce No perché ho corso veloce Cazzo Io sto combinando Ah Ti ho scamato Oh nooo Mi sto scamando a via Addio 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 molto più pesante mi ha solo power 1 non è che abbia ok, è diminuto vero niente, il suo buca è è stato completamente inutile ehm... ehm... fallo entrare, chiudi il buco lì, tanto dovrebbe entrare da qua siamo lontani, lo becchiamo aspetta mi faccio vedere, stai a destra così non ci bechiamo a vicenda ehi guarda sono ok, adesso ti sono stupidi, non entra nei buchi infatti non so anche questo ciao, manu boss ma tu dovresti combattere, provera, manu oddio creeper dietro, dietro, dietro no, stai fuori, stai fuori, stai fuori, stai fuori, stai fuori sei deciso? si tanto che voglio più manovra bones and lancisco via 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 2 foto gente 4.4 una burocco ingredienti mi as much more 6 내가 1 no 1.2 per questo sito no, non è, è morta, è morta ok, va invece c'è il ragno che va su e giù va un culo è morta si, coraggio ok, metti giù le torce si distruggi tutto, distruggi tutto te lo metti in mare non va porca troia te lo metti, è morto ostia quel piccolo si distruggia molto di me, diciamo e al contrario si, perché mi avevi detto spada invece era piccone, niente, ho sbagliato io tanto ci sono qualche creeper, eh? si, lo so ce l'ho io, quindi... oh, si che l'ho visto ti faccio vedere così, sto facendo hai messo su tante torce? eh? hai messo su tante torce? si, si uff, minchia Armando è strapotente oh, figa come li abbiamo distrutti li li abbiamo massacrati proprio oh, scane? no, no chi li attacca, chi li attacca? è appena comparso, non so perché eh, proviamo ad accendere tutte le luci? si il fratello stupido di Armando perché? perché? è lì, il firm ok, quello lì non l'ho capito oh c'è anche... là c'era una cassa? si, l'ho preso tutta io cosa c'era? ma niente speciale ok cioè, è tutta una matura di cotta ok, vado là tutta magica eh, dietro di te, dietro di te, via cristo ma perché non ti andrà a comparire questi figli di puttana? per me è sopra, guarda sopra aspetta, un secondo ah no, niente dove? supera le teste le nostre teste c'è una gabbia, tipo ah andiamoci io non ho toccato i materiali, però ma porca porca beh, lui ci tiene si, però cojoni eh, niente è così prendo i blocchi e si io vado qui su, poi, intanto ferro che culo ferro oddio c'è una persona? si credo che si credo che sia una persona ehm salve, scusi ehm è abbastanza in oddio non facci, non facci così devo assolutamente farò una cosa salve ti faccio le scale ehm, si, grazie non ho abbastanza il blocchi più mai nella vita beh, accendole almeno ok ok sai cos'ha? cosa? non so neanche se dirtelo oddio non so neanche se dirtelo non so neanche se dirtelo oddio oddio anche se non sono sicuro ah ok, hai fatto tu questa cosa qua non so neanche sicuro se se è vero quello che ho visto oddio non lo so, aspetta perché per essere sicuro di quello che ho visto facciamo così tu continua a scavare e fai delle scale scale serie? si c'è una stelata verso l'alto dici? verso quattico lì? si ok diventata faccio una cosa ok che potrebbe essere una cosa fantastica molto bene ma veramente fantastica fai un po' di calcoli stichiometrici uno due tre quattro fai i calcoli stichiometrici che poi fai venire il mal di testa tutti un po' di calcoli stichi un po' di calcoli stichi vittura vittura eh ok ho fatto i calcoli più perfetti di quello che pensassi bene e buono oddio mi raccomando non so dire quello lì no no dove ti faccio vedere ti faccio vedere e poi ti spiego ok ti faccio vedere quello che ottengo va bene va bene perchè a volte facevo tica a tirare sul mouse non ti spiego perchè pesa no non cesso lo tiro avanti e non va effettivamente avanti eh no lei non capisci la fisica no lo l'ho rotto no lo sono rotto eh 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 sono quasi arrivato eh fai fai fermo a mangiare qualcosa eh perca ha già finito di mangiare qualcosa tranquillo ah ok sono arrivato tra poco eh sono qua come sono morto vado mi avevo asciuttato ok me ne vado tu dove sei tu dove sei sono qui sotto arrivo ok c'è il romano l'ho ucciso lui ok trovo tutto io arrivo completamente sui due eh si si tanto qui c'è tutto ma io nel buco mi crescono sangue forti è bello soddisfazione della vita cristo non laggarmi oh non vedo l'entrata non vedo l'entrata ok no cazzo ho già troppa roba povera ma dai cazzo sono arrivo al vino